Allora intanto Frank Merenda, imprenditore del marketing, più grande formatore di marketing sicuramente in Europa per dimensioni della sua azienda, ecco una domanda che tanti si fanno e che anche io mi sono fatto quando ti ho conosciuto ormai nel lontano 2016 è, se vuoi una domanda banale ma importante, qual è la storia di Frank Merenda? Da dove viene? Io poi so che tu stai rispondendo a delle domande anonime in questi giorni e ce ne sono alcune anche che ti hanno chiesto qualcosa di simile, però ovviamente la quantità di spazio per rispondere è molto piccola, quindi insomma raccontaci un po', qual è la storia di Frank? Allora la storia in realtà è una storia casuale da un certo punto di vista per dove siamo poi arrivati nel senso che quello che oggi è diventata l'azienda, vi svelerò che non aveva nulla a che fare con quello che avevamo in testa all'inizio, però nasce da il classico errore di laboratorio, nel senso noi volevamo creare una cosa e in realtà poi questa formula ne ha data un'altra, perché poi il mercato semplicemente come accade per gli imprenditori normalmente tutti i giorni, ok? Io poi sai che sono di Sassuolo, no? Sassuolo è la patria delle piastrelle, delle ceramiche e ci sono tantissime, adesso per chi è della zona ci sono tantissime storie nel comprensorio ceramico che sono tra la leggenda, la verità, però in realtà nascondono sempre il fondo di verità, tipo la Keracol, hai presente le grandi aziende per esempio che producono la colla per le mattonelle, tutte queste aziende come la Iris per esempio sono nate, si narra, cioè se tu senti gli imprenditori, sono nate da un errore in realtà, cioè loro stavano cercando di fare una miscela per fare una cosa e in realtà si sono resi conto che questa miscela incollava praticamente e quindi hanno provato a usarla per incollare le mattonelle e da lì sono nate queste aziende enormi che poi hanno diffuso questi prodotti in tutto il mondo. Le piastrelle in alcuni casi sono nate perché, cioè non è che l'ha fatta uno in realtà e poi tutti gli altri l'hanno copiata, in realtà è stato in un momento storico dove si cercava di sostituire i marmittoni per terra, insomma quelle cose lì, c'era della gente che cuoceva il cioccolato, faceva delle cose incredibili e stranamente in più punti di questo comprensorio che fai conto è il triangolo Sassuolo, Fiorano Maranello, no? Quindi saranno 30 chilometri quadrati, quanto può essere, ok? E in realtà nascevano queste persone che cuocevano il biscotto, tra virgolette, dell'argilla, che si chiama il nome tecnico, tra virgolette, biscotto, e cominciavano ad avere queste protoforme di mattonelle che poi negli anni con il gusto chiaramente sono affinate e sono le cose che tutti noi abbiamo in casa, cioè oggi in casa o abbiamo le mattonelle o abbiamo il marmo magari nelle situazioni un po' più, oppure c'è cosa ci può essere il parquet. Cioè negli Stati Uniti hanno la moquette, ma noi l'abbiamo sempre avuta molto poco, quindi non è mai stato un nostro competitor, eccetera, eccetera. Certo. E quindi, diciamo, come nasce in realtà quello che oggi le persone vedono? Cioè da dove ho cominciato io sto viaggio folle, no? E perché siamo arrivati a creare questa roba strana? Perché in realtà io, fin da ragazzino, ero abbastanza inquieto, no? Quindi la scuola, per com'era in Italia, mi annoiava, quindi io arrivo a un certo momento, no? Faccio il liceo linguistico, poi mi iscrivo all'università, per quello che parlo un po' di lingue, perché la passione mi nasce chiaramente dal mio retroterra. Poi in realtà le lingue che ho studiato a scuola non le so parlare e ho imparato a parlare le lingue che ho parlato. No, la passione per le lingue, evidentemente, c'era a prescindere, no? Quello, uno si iscrive al linguistico perché gli piacciono le lingue, poi alla fine, no? Però c'era tedesco, era troppo difficile, nel senso che devi essere una persona seria o devi studiare? Io non ero una persona seria, cioè devi essere molto metodico, è come la matematica, è come il latino. Se non studi non la puoi raccontare, la verità è quella lì, no? E io all'epoca ero un ragazzotto, avevo tanto testosterone in giro, poca focalizzazione per il tedesco, diciamo. Però mi dispiace perché in realtà mi rendo conto che è una lingua bellissima, straordinaria e avrei voluto impararla veramente e ho perso un'occasione. Magari, chissà, la recupererò. No, però per dire, no? Non c'entrava niente, però è carina questa cosa. E quindi a un certo momento mi rompo le scatole dell'università e quindi neanche, tra virgolette, ho compiuto vent'anni, devo trovarmi un lavoro. E non so fare niente, perché non ho un titolo di studio, non so fare niente nel senso che non sono diventato avvocato, medico, ingegnere, cioè non ho creato una professione, no? E quindi in quegli anni, come tutte le persone, diciamo, del nostro comprensorio, devi sapere che le persone che si affrancavano, diciamo, nel nostro territorio, cioè tu se consideri, per esempio, Sassuolo, quella zona di Modena molto industrializzata, era divisa in due grandi blocchi, in realtà. Cioè è una zona molto ricca, però comunque divisa in due grandi aree. Un'area di ricchi, un'area non di poveri, ma sono mai esattiti poveri, però diciamo c'erano gli imprenditori, cioè se tu consideri solo a Sassuolo, nell'epoca top dove io sono nato, c'erano 1500 aziende ceramiche. Cioè tu pensa quante famiglie, no? Imprenditori, c'erano interi quartieri di gente veramente ricca, che prima non lo era, però inventa, diciamo, questo prodotto, no? Negli anni 60, negli anni 70, e quindi diventano medio-alto borghesi, e poi tutta, diciamo, la parte della popolazione che lavorava per queste industrie, e quindi tutto l'indotto, quindi tutti gli operai, tutti gli impiegati, ok, io facevo parte di quella città degli operai che si erano trasferiti, ovviamente, no? Allora, per venire a lavorare all'interno di queste industrie, quindi io facevo parte, no, dei poveri, non è vero, in realtà poi hanno sempre pagato molto bene queste industrie, anche per attrarre persone, talenti, persone qualificate, no? Da tutta Italia. E però ovviamente, diciamo, tra gli operai e gli impiegati e gli imprenditori veri e propri, cioè i padroni, no? Loro che si chiamavano così all'epoca, che possedevano le imprese, per affrancarti da questa cosa, c'era il ruolo, cioè quelli che guadagnavano veramente tanto, che giravano con la BMW, erano i venditori, cioè gli agenti di commercio della nostra zona, che, poverete, si facevano un buccio di culo così, nel senso che partivano ovviamente da casa la mattina col buio, ok? E poi caricavano le mattonelle nella station wagon, perché all'inizio le station wagon erano le macchine dei rappresentanti, perché gli servivano per caricare i cataloghi. Certo, è vero, è vero, è vero. No, no, Matteo Merano. Ok. E tornavano la sera col buio, purelli, però questi facevano un sacco di soldi. Perché? Perché si giravano, poveretti, tutta l'Italia, ok? E si facevano tutti i vari rivenditori, eccetera, 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 e però riuscivano a creare quel reddito da medio borghese, che era a metà tra l'operaio, che guadagnava bene, però insomma aveva uno stipendio comunque da dipendente e l'imprenditore. Quindi era la prima forma imprenditoriale, perché all'epoca la gente oggi magari se lo ricorda poco o non ci fa più caso perché magari non c'è più con il metodo di lavoro, non c'era l'impiegato commerciale come c'è oggi. Cioè perché queste persone non guadagnavano a stipendio, erano tutti agenti di... Ancora oggi ci sono agenti di commercio, però all'epoca era l'unico modo, quindi era una partita IVA, questi forelli non avevano fisso, non avevano niente. Ci alzavano la mattina, se tornavano a casa che avevano venduto bene, se no niente. Certo. Questo era un po'. E quindi in me nasce in maniera automatica, ok? Dico, non posso rinascere per diventare figlio della persona ricca che possiede l'azienda, però posso in realtà provare a intraprendere questa carriera, che era la carriera per tutti quelli un po' come me, un po' scapestrati, con la faccia un po' come il culo, un po' determinati, un po' non timidi tendenzialmente, con un po' di parlantina, eccetera, eccetera. Erano così le storie o no? Cioè, nel senso, lo scapestrato, se diventava bravino, faceva il venditore, diventava venditore, ok? Quindi se non avevi un vero lavoro, ma avevi un po' di canna, potevi fare il venditore. E nasce così in me questa passione, in realtà, per la vendita, che all'inizio più che una passione era un far di ragione virtù, cioè o non magni o qualcosa di... Certo. E quindi ci provo, fai conto, avevo quasi 19, non avevo nemmeno la barba completa, era una cosa veramente ridicola. Però comincio e trovo lavoro, faccio un po' di lavoretti, ovviamente, all'inizio, anche come dipendente, anche all'interno della stessa ceramica dove lavorava mio babbo, eccetera, eccetera. Però, insomma, non era quello che volevo fare, quindi a un certo momento trovo lavoro come agente immobiliare. Quindi il mio primo lavoro è assolutamente, a partita IVA è il mio primo lavoro vero, e comincio a fare l'agente immobiliare. Cioè vendo case in quegli anni, comincio a vendere case, che è un'esperienza assolutamente importante, è stata nella mia vita, chiaramente è un metodo di vendita B2C, però contemporaneamente di un prodotto estremamente importante, complesso. Cioè non è che stai vendendo una cosina, la persona entra e sull'impulso fa shopping e si compra una borsetta, no? Non è che voglia diminuire chi ha un negozio di... Però, cioè, uno quando acquista una casa, non ci sono altre cose sulle quali riflette di più, no? Quindi se qualcuno fa il venditore e riceve le obiezioni, giustamente dai clienti, no? Ci devo pensare, ok, quando vendi case è ovvio. Non è che la puoi schivare più di tanto quella cosa lì, no? E quindi diventa molto bello da una parte e comincio a ricevere all'interno di questo lavoro i primi rudimenti di formazione in termini di comunicazione, no? Di tecniche di vendita, che si chiamavano un po' all'epoca, anche perché io comincio a lavorare in quello che era il più grande, è ancora oggi, il più grande franchising che c'è in Italia per la mediazione immobiliare, che è Tecnocasa. E Tecnocasa ha sempre avuto... Tu fai parte di un franchising così importante proprio perché ti dà dei servizi, no? E il servizio più importante che c'era, al di là di tutto, è il fatto che formassero le persone all'interno. Quindi tu ti affiliavi e però la sede centrale costantemente erogava corsi di aggiornamento, di formazione, eccetera, eccetera. Una parte di questi corsi chiaramente erano prettamente tecnici, perché come agente immobiliare devi avere delle competenze notarili, da geometra, da avvocato. Se lo fai bene è un mestiere veramente affascinante e complesso. Poi è chiaro che moltissimi, come tutte le cose, lo fanno male. E quindi la categoria... Io sono il primo a prenderla in giro, ma la verità è che è un lavoro difficile. Cioè, se non vuoi fare danni e sei bravo, hai delle competenze da venditore molto importanti, che sono da consulente in realtà. Dall'altra parte le competenze tecniche che devi avere sono da tecnico, commerciale, molto, molto, molto evolute. Quindi io li prendo un po' in giro le agenti immobiliari perché mi dispiace, perché è un business, ne ho parlato più volte, invece in Italia è gestito molto male, negli Stati Uniti invece è uno dei business che tu usi come riscatto sociale. Cioè tu parti da zero facendo agente immobiliare e puoi diventare veramente ricco. Cioè, nel senso, è uno sport fatto in maniera completamente diversa. E quindi niente, da lì nasce tendenzialmente la mia passione. Poi mi devo fermare perché in mezzo c'è il blocco con la richiamata. All'epoca c'era ancora il militare, quindi ti richiamano, una cosa quella, per dire che no, fai opposizione, faccio servizio. Insomma, c'era un casino in quegli anni. Poi finisce tutto a cacciotte perché in realtà io ero proprio sul limite, era proprio l'ultimo anno. Quindi in un certo momento ci danno un'occhio, vabbè, mi dicono, va a cagare, fai quello che vuoi. Ok? E quindi, nel senso, la mia vita prosegue sempre in termini di ambito commerciale, come venditore. Faccio un po' di esperienze in varie aziende, esperimento anche il B2B. Qui ho un'esperienza carina all'interno di un'azienda che si occupa in realtà di, dalla selezione del personale, no, alla consulenza. Erano quelle aziendine, no, di provincia che all'epoca facevano un po' il lavoro di consulenza per le aziende. Quindi si occupavano un po' di tutto, dalla selezione del personale, all'inserimento del personale, a corsi un po' di crescita personale. Quindi era un misto tra selezione personale, consulenza, qualche forma di formazione. Questa cosa mi appassiona. E che cosa mi rendo conto, in realtà, facendo un'autoanalisi, no, io nel tempo, all'epoca anche, che io ero, adesso è brutto parlarsi addosso, però nel senso, dico, ero molto bravo a vendere, ok? Cioè, nel senso, ero sia una persona appassionata della formazione vendita, quindi avevo approfondito il più possibile, approfondivo con quello che potevo anche da ragazzino, le informazioni, eccetera, eccetera. E in realtà avevo un trauma. Cioè, nel senso che facevo schifo, ma veramente, cioè nel senso, ma non perché fossi scarso personalmente, perché era qualcosa che contrastava con la mia personalità, quello di dover prendere appuntamenti. In che senso? Nel senso che all'epoca, cioè oggi tutti, sono arrivato io e quindi ci sono tutta una serie di cose che sono diventate scontate. Ma prima che io cominciassi a fare il primo venditore vincente, e anche proprio semplicemente a divulgare sul primo blog, che poi dopo fra un attimo ne parleremo, in Italia l'unico modo di fissarsi appuntamenti era lo spam umano. Cioè, nel senso, era il porta a porta, un lavoro da disturbatore, il famoso piede nella porta, che fosse che tu lo facessi in un'azienda cercando di scavalcare la segretaria, che fosse a casa della signora Maria perché volevi entrare per vendergli dal Bobby Frost, ai contratti lucidi, o qualunque cosa fosse, oppure le famose, quelle che noi chiamiamo le telefonate a freddo, che sarebbe il telemarketing, quello invasivo, dove adesso c'è il registro delle posizioni, però sappiamo che funziona, che no, uguale, però tu lo sai meglio di me, non avete scritto anche io, a me mi hanno intervistato, voi avete scritto articoli, eccetera, eccetera, al riguardo, ma al di là di questo, cioè, oppure spam con i fax, una volta si faceva, io nelle aziende di consulenza dove lavoravo, la strategia commerciale che noi avevamo era, c'erano dei software che praticamente, poi tu lo sai meglio di me, perché vieni da lì, c'erano dei software che ti permettevano di automatizzare l'invio su delle liste che tu gli davi, di fax, in realtà, quindi c'era lo spam, invece oggi si fa con le mail, magari qualcuno ruba delle liste di mail e spamma sulle mail, all'epoca si faceva quei fax, quindi noi avevamo l'azienda che mandava questi fax a tutti, e poi dovevi richiamare queste persone, e queste persone... Lo facevamo spammando prenotazioni, ti ricordo, noi lo facevamo per gli ottermi, almeno qualcosa gli davamo, non era soltanto affiliate, ti mando una prenotazione, poi ti chiamo, e ti dico vieni dentro, eccetera eccetera. Esatto, noi era uguale, solo che ti lascio immaginare, io mi ricordo, c'era un'azienda che ho lavorato che mandava tipo un fax che era tipo 20 pagine, quindi quando tu richiamavi l'imprenditore, l'imprenditore ti bestemmiava, io chiamavo, la gente dice, io adesso vi fatturo, ma avete rotto i coglioni, ti risponde, poi tagliate questo ovviamente, nel senso le parolacce, mi raccomando, ma io vi fatturo la carta del fax, quindi cioè, era veramente un mondo strano, poi in realtà, quando arrivavi a fare il lavoro, ero bravo, cioè nel senso io partivo con i clienti, i clienti non mi lasciavano più, perché poi mi piaceva, mi appassionavo, dedicavo grande passione, eccetera eccetera, e quindi da qui nasce tutto il grosso del problema, e qui nascono i due punti fondamentali del problema che io ho individuato in realtà in Italia, per quello poi che ho cominciato a studiare, cioè i miei viaggi poi negli Stati Uniti all'inizio servivano a questo, cioè io in Italia avevo questo problema, che oltre a una certa soglia, non riuscivi a formarti, veramente nelle tecniche di vendita, perché? Perché quando cercavo di formarmi io, l'Italia era in base all'epoca, storicamente, la gente magari non se lo ricorda, quindi è giusto ricordare un po' la storia per contestualizzare, perché altrimenti la gente poi non capisce, cioè quando io ho cominciato, ok, l'Italia era in base di PNL e basta, cioè era arrivato, e non è una cosa mondiale, cioè la gente, gli italiani pensano che sia una cosa mondiale, in realtà non è così, ok, cioè l'Italia come tante cose, prende su delle cose che o funzionano negli Stati Uniti e le porte in Italia, o prende su delle truffe che non hanno funzionato negli Stati Uniti e le porte in Italia come se fossero la cosa più grande del mondo, scherzando, provo a ricordare quando noi, gli italiani, negli anni 60, negli anni 70, importavano da Londra o dagli Stati Uniti dei cantanti, degli scienari, che lì non se li cagava nessuno e in Italia erano i protagonisti, dei fantastici, però sta gente non aveva nessuno, lì non aveva avuto successo in realtà, ok, quindi venivano in Italia e trovavano l'America, ma PNL è una di quelle discipline che ha trovato l'America, nata in America, ma che ha trovato l'America in Italia, infatti poi negli Stati Uniti non se la caga nessuno e ha avuto diffusione, per esempio in Messico, in Venezia, cioè, quei paesi che culturalmente ci assomigliano per tutta una serie di motivi di circonvenzione, di incapaccio, ogni tanto, ok, è uno di quei casi, ok, va bene, quindi aperta gli scherzi, quindi io non condividevo praticamente nulla di queste cose, queste cose sono delle tecniche di autoaiuto che voi con il marketing state cercando di rivendere come se fossero le tecniche di vendita, utili, ma non lo sono in realtà, cioè state cercando veramente di appiccicare delle cose laddove non lo sono, ho detto, quindi vado alla fonte, cioè comincio a studiare, realmente, quindi comincio a approfondire tutti i sistemi di vendita, i metodi di vendita più famosi che c'erano all'epoca, per citare, spin selling, customer centric selling, sandler training system, cioè i più importanti, in Italia non conosce nessuno, diciamo, ma negli Stati Uniti se chiedi, ti rispondono, cioè di quali sono i tre sistemi, quattro, i sistemi più importanti e ti fanno tac, 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 e io vado e comincio a studiare, ti procuro un po' di materiali qui, vai a fare i corsi là, cioè te la raddrizzi, no? E quindi comincio a studiare queste cose e mentre faccio queste cose comincio anche parallelamente a scrivere il mio primo blog, ok, quindi arriviamo, siamo nel 2010, più o meno, sì, 2010, luglio 2010, comincio a scrivere il mio primo blog per divulgare queste informazioni, dice, se uno è ancora lì, quindi se uno se lo va a riprendere, noterà che i primi mesi, anni del blog sono semplicemente spiegare, cioè nasce questa guerra con la PNL che è ciò che un po' all'inizio mi ha reso famoso, cioè era semplicemente uno spiegare la verità di ragazzi, guardate che le robe che voi state e mi rompete le palle in Italia tutti ma tu conosci, no, non mi interessa perché io studio tecniche, mi occupo di tecniche di vendita, sono appassionato di tecniche di vendita, studio tecniche di vendita, ok? Ed era così, quindi comincio a fare, all'epoca cosa faccio? Comincio a scrivere il blog, comincio a fare i primi filmati perché oggi grazie, noi siamo su Zoom con due click o vai su streamer, all'epoca ti dovevi mettere lì con una telecamera, cioè era di servire una troupe per fare, era veramente complesso rispetto a quello che oggi, no, con YouTube che era solo agli albori, era un accrocchio molto difficile da far girare, insomma era complicato, quindi faccio quello che poi ho insegnato negli anni, cioè fai video, fai l'audio, scrivi, fai il blog, le cose rudimentali che però poi sono diventate anche metodo merenda nel corso, perché all'epoca non le faceva nessuno, oggi tutti fanno i corsi, ah ti insegno come diventare milionario con YouTube, ma i primi viti l'ho fatto io sull'argomento, ecco il blog diventate, ma l'ho fatto io, cioè voi non facevate niente di questa roba prima che, ok, il blog era, cioè prima che arrivassi io in Italia a scrivere il primo vero blog di business, poi nasce dalla Venita ma poi l'abbiamo evoluto, i blog erano i diari di viaggio delle persone, o io le mie poesie, sono andato in Trentino che belle le mele, il blogging, l'attività di blogging era quello, non c'era una vera attività di blogging divulgativa e quindi con questa praticamente attività divulgativa nasce la mia attività di, cioè la gente comincia, cioè tu fai marketing più o meno involontario in realtà, perché non c'erano veramente, all'epoca era tutto rudimentare, era una divulgazione veramente gratuita, quindi in maniera assolutamente spontanea le persone cominciano a chiedermi consulenze per loro, per vendere, per le loro reti vendita, no vieni fai la consulenza eccetera eccetera tutte queste cose, quindi si amplia questa cosa e quindi io tra virgolette approfondisco questa mia attività di consulente per reti vendita eccetera eccetera facendo questo lavoro di taglia, cuci, capisci, adatta dai materiali americani che sono il materiale sorgente, originale, però in Italia meritano un certo tipo di adattamento perché certi atteggiamenti che hanno negli Stati Uniti culturalmente qui non vanno bene, certe cose che noi facciamo lì non andrebbero bene e quindi taglia, cuci eccetera eccetera quindi il punto numero uno è sostituzione tra virgolette della PNL con il concetto guardate che esistono le tecniche di vendita vere e proprie ma non perché sto inventando niente, io l'ho sempre detto, ho sempre parlato in termini molto aperti ai miei insegnanti, in termini codificati nel mondo se voi parlate di tecniche di vendita si studiano queste cose, siete voi in Italia che state studiando carciofi per cazzuole ma non è colpa mia se dico, se affermo la verità, non l'ho fatto io, cioè io gli do un nome adesso perché cerco di mettere insieme un certo tipo di corrente in maniera organica però nasce da qualcosa, non è che me lo sto inventando, non è che sono nato furbo, imparato, nasco sempre da delle fonti, dalle sorgenti che sono verificabili, stanno là, cioè potete andare anche voi, io diciamo venite qua, fate i corsi con me, non è che sono chiusi, non è una setta, ok? E quindi ma in realtà la cosa simpatica è che questa cosa fa nascere poi il vero cortocircuito che mi sblocca un passaggio, cioè nel senso che la formazione vendita che io approfondivo come se per me fosse la cosa più tutto l'oro del mondo, Perché arrivi a Disneyland, cioè non l'hai mai vista, non l'hai mai sentita, arrivi là e trovi questo mondo, in realtà anche negli Stati Uniti stessi stava morendo, nel senso che la vendita, la metto giù male e poi cerchiamo di capirla, la vendita era una cosa molto anni 80 e anni 90, arrivati passato il 2000 e quindi soprattutto negli Stati Uniti, arrivato internet in maniera più importante là che qua, perché è tutta una serie di cose eccetera eccetera, il problema che affrontavano negli Stati Uniti era il problema che io mi ero reso conto in nuce con la mia sensibilità da ragazzo quando vedevo che qualcosa non funzionava, cioè il problema non è tanto parliamo col cliente e convinciamolo a comprare che è quello, il problema è che non si poteva più come una volta parlare con i clienti, cioè quando io ho cominciato a fare il venditore e tu Marta te lo ricorderai assolutamente, in tutte le aziende tu arrivavi tranquillamente c'era il cartello, tu arrivavi nell'azienda e c'era il cartello si chiamava così, la scritta era questa, i signori rappresentanti si ricevono il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12.30, è vero o no? Te lo ricordi? Sì, sì, assolutamente. quindi non serviva, cioè tu ti presentavi, come si chiamano per i medici, l'informatore medico, Cioè che sarebbe il rappresentante della casa farmaceutica in realtà, tu ti presentavi a quell'ora, avevi la punta e sapevi che ti avrebbero ricevuto, non era un problema. Questa cosa sparisce e quindi in realtà il problema, perché? Perché le aziende aumentano, la concorrenza aumenta, il mondo cresce, no? Quindi si sviluppa, quindi questa cosa non esiste più, quindi il poema era avere l'attenzione di qualcuno che volesse permetterti di fare una presentazione di vendita qualunque cosa questo volesse dire. Quindi la tua capacità come venditore passava in secondo piano rispetto alla necessità di essere in grado di procurarti gli appuntamenti. Certo. Quindi quello che noi poi in tempi non sospetti abbiamo chiamato marketing perché all'inizio in realtà cos'era Venditore Vincente? Cioè questo blog che abbiamo chiamato Venditore Vincente che diffondeva queste tecniche in realtà sì, da una parte cioè era duplice questo era composto in maniera duplice da una parte parlava delle vere tecniche di vendita tra virgolette però dall'altra parte spiegava il concetto che era morto o doveva morire o sarebbe andato a morire il vecchio modo di essere un disturbatore seriale con il porta a porta le telefonate a freddo lo spam eccetera eccetera e quindi Venditore Vincente quando poi si è concretizzato in un corso perché che cosa succede? Facendo una breve reprino noi non abbiamo mai venduto in generale ma soprattutto dall'inizio abbiamo sempre avuto una grande questo io me lo riconosco una grande onestà intellettuale noi non abbiamo mai venduto niente cioè la gente mi chiedeva di fargli consulenza io andavo ok va bene però cosa succede? Che con il blog i video eccetera eccetera cominciano ad arrivare le richieste spontanee all'inizio da parte delle persone oh ma bellissime queste cose ci fai un corso dal vivo ci fai un corso dal vivo ci fai un corso dal vivo io dopo due anni due anni dopo due anni perché il blog nasce a luglio del 2010 due anni e mezzo quindi a novembre 23 novembre 2012 quindi dopo due anni e mezzo accetto questa cosa ok vediamo se viene famo sto corso dal vivo vediamo se viene qualcuno ok e andò molto bene da un certo punto di vista andò malissimo da un altro che dopo ti spiego teniamola in sospeso questa cosa e quindi da una parte abbiamo detto c'era il problema delle tecniche di vendita dall'altra però c'era questo concetto di fissare gli appuntamenti quindi in realtà Venditore Vincente era un corso che era sì di tecniche di vendita ma dall'altra parte avrei dovuto chiamarlo marketing per agenti di commercio cioè la capacità di farsi fissare degli appuntamenti con clienti prequalificati ok che avessero già ricevuto dei materiali informativi prima di entrare in contatto con te perché la tematica poi diventa questa no che vai a parlare solo con persone che hanno richiesto esplicitamente la tua presenza perché tu gli hai inviato con la carta con il blog che gli hai girato via i mail gli hai mandato i video eccetera eccetera dei materiali informativi che ti hanno posizionato nella sua testa e questa persona è lui a chiederti di andare lì a fare la presentazione perché diciamo se hai fatto bene il tuo lavoro da venditore vincente quindi la parte quello che noi venditore vincente chiamiamo il vagone del prima si chiama prima ma in realtà se gli dai un nome è marketing chiamiamo prima perché all'inizio non potevo mettere troppe parole difficili diciamo c'è un prima nella trattativa c'è un durante cioè quando ci parli e poi c'è un dopo che sono le cose che devi fare in termini di follow up per seguire i clienti questo famoso prima che tu trovi ancora nel manuale nel libro stesso vendere fa schifo che è stato poi il primo best sell insomma che abbiamo fatto è il marketing cioè era un modo per spiegare ai venditori che dovevi produrre dei materiali di marketing che anticipassero la tua venuta in modo che il cliente fosse per dare una cifra pronto al 70% già ad acquistare da te invece che da qualcun altro e poi però il lavoro chiaramente lo devi fare però non doveva essere un lavoro da prendo la palla dalla mia area di rigore alla maradona scarto tutta la squadra avversaria e segno perché poi la vita ingrata dei venditori che non ovviamente non hanno delle aziende che li supportano con il marketing e quindi che cosa succede facciamo questo primo organizziamo questo corso dopo due anni e mezzo ce lo chiedono è a grande richiesta ok nasce questo corso venditore vincente e noi lo facciamo ed è un grande successo perché abbiamo tipo una settantina di persone in aula era un corso venduto direttamente ai ticket questo sarà una delle nostre caratteristiche poi nel tempo non abbiamo mai fatto corsi a cento la media all'epoca erano duecento euro quando facevi un corso noi partiamo mille e cinquecento euro i nostri corsi sono sempre stati prezzati alti chiaramente quindi è un mega successo per uno che non è nessuno avere a Milano tante persone in aula è un successo che non finisce più e quindi che cosa succede? succede che è un successo enorme da un certo punto piccolino ma enorme se lo contestualizzi per gente che non era abituata a comprarsi la formazione a fare formazione eccetera eccetera ed è un enorme fallimento in realtà contemporaneamente che scatena quello che viene dopo cioè qual era il ragionamento questo non l'ho mai detto a nessuno io lo dico a te come esclusiva nell'intervista e poi qualcuno magari può averlo dedotto ma in realtà se lo diciamo si capisce bene ok qual era il ragionamento in nuce di quello che facevo io era io spiegherò queste cose e quindi se sono bravo a farlo quindi se diventerò bravo con il copy cioè l'arte dello scrivere per vendere eccetera eccetera quindi con il marketing e tutte queste cose convincerò i clienti che nella mia testa sono erano quelli come me cioè gli agenti di commercio a studiare per diventare più bravi nel loro lavoro questa era la grande teoria e se tu leggi all'inizio venditore vincente il blog ok la prima parte del libro era rivolto a queste persone qua noi scopriamo con mia grande sorpresa che gli agenti di commercio al corso eravamo zero a quelli chiamati venditori rappresentanti agenti di commercio procacciatori di affari di formarsi alla vendita me ne fregava niente perché erano me cioè tutte persone scapestrate senza lavoro eccetera eccetera però rispetto a me tra virgolette gli mancava quell'orientamento alla conoscenza perché io poi nasco figlio di insegnanti i miei genitori sono insegnanti erano maestri di scuola quindi mi hanno trasferito la passione da un certo punto di vista sia per l'educazione che probabilmente sono diventato anche formatore anche per la passione a questo tipo di lavoro che mi hanno trasferito i miei genitori e quindi invece i venditori normalmente non ce l'avevano tu dici allora chi cacchio è venuto eh sono venuti quelli che riconoscevano il problema delle cose di cui parlavo pervere erano i piccoli imprenditori che sono il primo venditore di se stesso nella sua azienda perché in Italia lo sai abbiamo visto mille volte il piccolo imprenditore è un tuttofare ma è anche che se non le va a fare lui le trattative è costituitamente importante quella trattativa non si chiude quindi noi avevamo zero zero agenti di commercio e tutti imprenditori era un target che io non ero pronto a ricevere nel senso che nella mia testa non li avevo visti cioè non avevo notato in realtà che il mio pubblico quindi nasce da un mio errore di valutazione in realtà tutto quello che è venuto dopo e quindi che cosa succede? ormai mi sono lanciato no? quindi con questa avventura il venditore vincente bisogna sostenerla in maniera più importante o fai un one shot e poi saluti tutti alla Celentano ci vediamo fra dieci anni oppure bisogna che ci crei una struttura intorno e quindi comincio ad avventurarmi nell'ambito ancora più specifico del marketing cioè quelle che noi oggi chiamiamo le famose campagne a pagamento e quindi tra una cosa e quell'altra e le campagne su Google e le campagne su Facebook comincio a fare il marketing vero e proprio quindi la creazione dopo di vere e proprie landing page la creazione di vere e proprie mini infomercial fatti in maniera rudimentale con me con la telecamera però è quello erano tutto quello che poi è diventato in realtà la roba successiva i primi materiali di marketing scritti stampati inviati alle persone tutte queste cose e quindi che cosa succede? succede che dalla produzione di contenuti quindi la condivisione da parte del web in maniera naturale la SEO più o meno naturale che abbiamo conquistato poi abbiamo cominciato a lavorarci un pochino poi ci aggiungiamo insieme la creazione delle campagne a pagamento cioè cominciamo a investire oltre che tempo anche economicamente nel marketing e ricordiamoci che all'epoca non è come oggi nel senso che oggi uno anche a volerla fare a livello base 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 chiami uno di Italia Online come si chiama questi fanno 300 milioni che sarebbero le pagine gialle nuove cioè che ti fanno il lavorino della micro campagna su una paginetta eccetera eccetera modello carne da cannone però esiste all'epoca non c'erano i tecnici cioè nel senso tutto ricordo stiamo parlando 2010 c'era nessuno dove trovavo oggi sono tutti esperti di Facebook ads ma all'epoca non c'erano gli esperti di Facebook ads cioè esistevano perché per l'amore del cielo esisteva già Giorgio Tave ma erano comunque un micro gruppo di nerdini non è che fosse una cosa che oggi calci un cassonello netto della spazzatura vengono fuori tre esperti di Facebook ads all'epoca cioè era complicata quindi era molto sedicenti esperti poi chiaramente sedicenti esperti però all'epoca io mi facevo io da solo tu cioè all'inizio mi facevo da solo le landing page su optimized press mi mettevo lì tututututututu ci installavo il film tutto cioè all'inizio veramente è una roba da sfigato faccio tutto da solo ma perché non c'era cioè per oggi è tutto facile per tutti ma all'epoca è come quando tu hai cominciato a creare venere e poi ho capito oggi grazie c'è booking grazie a casa ma quando l'ho fatto io non c'era niente esatto esatto c'è anche solo capire che cosa dovevi fare non era così fatto oggi tutti ah sì faccio la campagna l'ending page grazie a cazzo l'ho detto io ma all'epoca a me chi me lo diceva cioè vero non c'era niente non c'era nulla no quindi se pensi che ero io che dovevo prendermi con wordpress ottimize press o lead page come si chiamava e installarmi da solo le landing all'inizio poi dopo chiaramente ho trovato i collaboratori però all'inizio era veramente c'eravamo io e Silvia io che facevo la roba del marketing online eccetera eccetera Silvia che tirava sul telefono per vendere erano in due all'inizio e per un po' è stata così no e quindi che cosa accade accade che Venitore Vincento diventa un grande successo noi continuiamo a fare tante altre edizioni passa il tempo e arriviamo da il corso sulle cassette della frutta con 70 persone all'inizio a riempiamo il alla riccione e note cresce molto velocemente in qualche anno e noi siamo sempre rimasti molto focalizzati abbiamo fatto sempre solo quello quello dopo ne parleremo non siamo mai stati venditori delle mode che è il problema della formazione di oggi siamo una scuola sappiamo veramente fare una cosa insegniamo quella stiamo nel nostro e parliamo di quello però che cosa accade anche qui accade Venditore Vincente 2 cioè nel senso che la gente innanzitutto è entusiasta perché molto del lavoro che facciamo certo sono le campagne ma molto è passaparola quindi tutte le testimonianze le persone che dicono oh sto frank è un fenomeno è quello che mi ha insegnato funziona e tutte queste cose qua quindi c'è un chiacchiericcio importante è veramente disruptive come direbbero quello che facciamo quindi si autovende al di là che poi siamo anche bravi a fare le campagne però accade un altro passaggio cioè la gente comincia a vedere che noi diventiamo cresciamo sempre diventiamo un successo sempre più grande quindi alla fine non è che dici hai riempito non so un palazzetto di casalinghe alla fine quelli sono tutti imprenditori perché è un lavoro B2B alla fine cioè noi vendiamo le imprese vengono gli imprenditori vengono i manager e quindi vedere per le persone un palazzetto pieno di imprenditori quando tu come piccolo imprenditore magari hai gli stessi tali dici cazzi non riesco ad averne tre e questo riempie quello più grande che avevamo fatto quando abbiamo fatto sold out al palariccioni erano tutti i posti 576 posti a sedere pieni ok extra staff e quindi che cosa accade accade che gli imprenditori mangiano la foglia cioè dicono guarda Frank è tutta bellissima sta cosa che ci sta insegnando sulla vendita come si vende eccetera eccetera ma noi vogliamo sapere un'altra cosa adesso che è come cacchio fai tu a portarci tutti qua perché non è solo la parte di Silvia che chiama noi vogliamo sapere bene non lo intuiamo vedendo quello che fai vorremmo sapere cioè se esiste un metodo delle cose che tu fai per portarci qui quindi il marketing cioè questa gente mi diceva chiede è bella la parte della vendita ma noi ci accorgiamo che in realtà parte importante un po' successo derivato dal fatto che tu hai rivoluzionato il marketing per il business in realtà per le piccole imprese perché si vede che non fai la pubblicità no alla radio alla televisione non fai il marketing istituzionale quindi sto cacchio di marketing strano che fai te che noi in Italia non siamo abituati a vedere né a ricevere che cacchio è e allora la gente io dico vabbè non vi preoccupate non è niente a forza di dirgli non è niente non è niente non è vero la gente non ci crede dopo un po' perché vede che le cose continuano a crescere o è magia o te sai far qualcosa che non ci stai dicendo allora noi passano tanti anni anche qui in termini di serietà perché io non voglio non abbiamo mai venduto niente che non fosse stato stratestato straverificato non ci avessimo messo noi prima il lavoro gli errori gli sbagli i test i soldi messi sul piatto quindi dal giorno 1 quindi nel 2010 dopo 6 anni quindi nel 2016 noi lanciamo il secondo corso cioè io decido dopo 6 anni quindi a 4 anni dal primo corso che era venditore vincente quindi 2 anni e mezzo per fare il primo corso 6 anni per lanciare il secondo in termini di serietà lanciamo questo marketing merenda che diventa il secondo pilastro della nostra azienda ma perché nasce per richiesta dal basso popolare delle stesse persone che poi mi seguivano ovviamente per il primo passaggio e anche lì diventa un successo enorme anche il primo è la prima edizione dopo che facciamo il 2016 anche perché è ancora diventato poi il manuale dei fondamenti quindi sono le registrazioni che non sono ancora date eccetera eccetera anche quello è un altro sold out sempre a parlare perché all'epoca era la nostra location di riferimento quindi facciamo sold out nuovamente anche lì quasi 600 persone eccetera eccetera per questo corso nuovo e da lì l'azienda ha questa svolta enorme dove in realtà seguiamo un po' l'attenzione cioè riusciamo finalmente a buttare dentro agli italiani che seguono ovviamente la nostra nicchia eccetera eccetera il concetto di base che sì la vendita è importantissima ma il futuro per il piccolo imprenditore è riuscire a fare marketing perché se no muori questo diventa un po' il concetto no? e quindi da lì l'azienda si sviluppa cioè in maniera naturale avvengono quegli add-on no tra virgolette che di volta in volta ci vengono richiesti perché? perché tu poi fai un corso su una cosa e risolvi un problema ma apri un'altra tematica cioè le persone dicono ok ma questa roba è fantastico come si fa questa altra cosa qua? nasce la tematica non so del copywriting e allora fai fai il corso sul copywriting adattato per gli italiani perché non puoi prenderlo dagli americani per una serie di motivi uguale studi i principi ma lo devi adattare e anche lì passa il tempo e facciamo il primo corso su quello eccetera eccetera tutte queste cose fino a che diciamo intorno al marketing noi ci rendiamo conto di una cosa io mi rendo conto di una cosa e questa cosa me ne sono reso conto io e basta dico la verità l'unica cosa alla quale mi prendo un merito veramente in termini di originalità di intuito perché negli Stati Uniti non mi frega niente ok non troverai mai niente che assomiglia a metodo merenda da questo punto di vista che è io mi rendo conto che se fai davvero le campagne e le campagne funzionano e l'imprenditore italiano salta per aria cioè sembra solo se fai marketing l'azienda fallisce perché? perché gli italiani il 96% sono micro imprese micro e piccole imprese non sono abituate a guardare i dati di bilancio il controllo di gestione e quindi capottano la cassa semplice nel senso hanno delle difficoltà nel gestire tutto arrivano troppi clienti ti fanno causa perché non li puoi servire ok o hai speso troppo in realtà non ti rendi conto che tu facebook e google e quello della carta lo paghi oggi e tu incasserai cioè il ciclo si chiuderà fra 180 giorni quindi tu non ce l'hai con lo scoperto di cassa in banca eccetera eccetera e quindi da lì nasce la mia frase è veramente il mio trade ma devo dire la verità in parte me l'ha imboccato il RIS ok perché poi tutti i lavori di posizionamento ovviamente abbiamo fatto con Al ma è l'imprenditore è un esperto di marketing che sa leggere un bilancio e quindi da lì inseriamo tra virgolette l'ultimo tassello che è quello di avere all'interno della scuola a disposizione i corsi specifici perché quando cominci a fare marketing se sei un imprenditore devi anche saper leggere i numeri e saper programmare la cassa gli investimenti il marketing ma anche ovviamente nella necessità di allargare la struttura perché? perché se hai più clienti avrai bisogno di più gente che ci parla quindi avrai bisogno di più venditori e se vendi di più avrai bisogno di produrre di più installare di più consegnare di più fare con l'assistenza quindi la gente mi dice ma come mai guarda tutto quello che fa il guru lì da dove sono in tre persone e dice che è milionario ho capito è una bugia ok perché se tu vieni da noi oggi abbiamo più di 100 dipendenti a stipendio assunti per il volume di clienti che abbiamo siamo anche stretti cioè se non avessi quelle persone ma chi la fa la roba? il problema è quello lì noi abbiamo un team solo per l'assistenza che lavora oggi lo abbiamo sviluppato 24 ore su 24 nel senso che come Amazon è possibile se tu sei pazzo e ti svegli alle 4 di notte e hai un problema perché non entri in area riservata se scrivi c'è uno all'assistenza che ti risponde perché noi abbiamo delle persone che sono italiane discendenti italiani che però vivono in Argentina e quindi ci lavorano sul flusso orario che è da un'altra parte ok e quindi 24 ore su 24 a me piacerebbe tenermi quei soldi in tasca e giocarmeli al casino però se vuoi creare un'azienda non si può cioè l'azienda vera è anche mancanza di rispetto prendere in giro le persone dicendo ah tu sei un coglione che c'è la fabbrica lavora di 10 ore giù guarda che io sono qua in spiaggia e faccio il lavoro la gente li prende anche per il culo perché poi menti non è vero ok non è vero niente di quello che dice questa gente e noi invece siamo lì a dimostrare che nel nostro piccolo quello che diciamo è quello che abbiamo fatto noi per anni quindi non vendiamo niente che non sia testato e verificato e soprattutto che noi per poterlo fare abbiamo bisogno di una quantità cioè gli asset dell'azienda il personale la struttura devono crescere noi oggi per fare quel po' che facciamo abbiamo creato l'hai visto poi perché vieni l'auditorium dove noi ci facciamo i corsi interni adesso abbiamo dovuto prendere tutto il piano sopra perché con il personale non ci stiamo più cioè fosse per me io non l'assumerei questa gente mi giocheresti i soldi al casino ma non riesco a mandare avanti l'azienda se non continuo ad assumere amministrativi copywriter gli esperti ok di amministrazione che quando facciamo le consulenze chiedono i bilanci alle persone questi non ce li hanno e parla con il loro commercialista vai a recuperare e ricreargli da zero il controllo di gestione fattura perché loro non sanno di cosa stai parlando cioè se io non ho questi ragazzi io non riesco a fare le consul non riusciamo a fare niente non riusciamo a erogare i tecnici ok servono per fare le campagne i tecnici che tengono sui server i tecnici che fanno girare i cr come fai? chiarissimo 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 bene senti intanto fantastica questa ricostruzione molto bella ho fatto troppo però la storia no no ma tranquillo ovviamente la dovremmo un po' asciugare perché insomma figurati però ci sono alcuni elementi sicuramente preziosi quindi li cerchiamo di mettere in evidenza allora ora appunto tu mi hai giustamente fatto questo percorso che in qualche modo sei partito come venditore poi sei ti hanno trascinato a spiegare come si fa il venditore e poi dopo ci si è resi conto che non era solo venditore ma facevi marketing e allora ti hanno trascinato a spiegare come si fa il marketing e poi a un certo punto è venuto fuori che in realtà per fare tutto questo bisogna fare azienda no? e quindi e quindi c'è proprio questo percorso dalla vendita al marketing a fare azienda che poi appunto è controllare i numeri avere una struttura e così via no? quindi diciamo per diciamo c'è anche come dire questo tuo percorso di costruire qualcosa che poi ti viene chiesto come hai fatto a fare quella roba lì no? diciamo eh dirlo in in altre parole allora tu comunque appunto come hai raccontato hai portato in Italia dei concetti assolutamente sconosciuti qui no? quindi diciamo hai portato anche questi maestri grandi maestri americani i tre fondamentali che tu uccisi sempre J. Abraham Ries e Dan Kennedy sicuramente sono tre persone che mi ricordo anche le prime volte che ci conoscemmo come tu mi dicevi questi sono i miei tre riferimenti tre pilastri diciamo su cui poi io di fatto ho costruito il mio metodo il mio la mia no? lo rietaborati per l'Italia ma di fatto in questo modo ne hai fatto un qualcosa di nuovo no? io ero in trasparenza nel senso che come formatore ho sempre detto ragazzi queste sono le mie fonti volete studiare direttamente di là io sono contento in modo cioè parlare tra persone intelligenti per me è più importante che raccontare delle scemenze assolutamente assolutamente poi c'è un arricchimento a vicenda per cui nessuno toglie niente a nessuno voglio dire no? ecco allora proprio allora tu sei partito nel 2010 quindi dodici anni dopo ok? di questo lavoro che in qualche modo tu ti sei trovato trascinato in questa diciamo questa parola qual è a che punto siamo in Italia con questi temi qui cioè ovviamente tu c'è un osservatore privilegiato la vostra azienda ormai è cresciuta e diventa con dimensioni importanti molto importanti molto significative lavori con tante imprese italiane grandi piccole medie insomma a che punto siamo su questi temi cioè rispetto al di là del fatto che il mondo è cambiato perché il mondo è cambiato scettamente ci sono altri metodi di comunicazione ci sono altri metodi di di promozione tutti sanno fare diciamo tutti dicono di saper fare marketing online e così di questo genere no? ma le imprese italiane a che punto sono? e a questo poi si lega anche l'altra domanda che ti faccio subito così magari la leghi tu perché le imprese italiane soffrono di nanismo? perché l'85% 90% delle imprese sono micro imprese? forse c'è un problema di ambizione? allora vediamo se riesco a dare una risposta assolutamente intelligentissime interessanti domande complicate immagino però no no è che la risposta è metterla in ordine che quando ci pensi da dove parto a spiegare tutto sto casino è certo ma insomma te l'ho detto per questo perché poi vedi tu che modo articolato allora partiamo dall'imprenditore italiano così poi dopo la spieghiamo ok allora le aziende italiane è vero hai ragione nel senso soffrono di nanismo ed è assurdo perché in realtà l'Italia e non solo per i settori che ci riconoscono automaticamente nel mondo come possiamo dire la moda possiamo dire il food sono piene di io devo dire la verità la gente mi conosce io vivo nel mondo giro il mondo e io ho scritto anche l'ultimo libro che si chiama impresa l'italiana per ridere insieme anche no dei vizi dei difetti nostri eccetera eccetera io sono sempre molto severo da questo punto di vista però internos se non lo diciamo nessuno io devo dire che la quantità concentrata di genio vero con la testa con le mani che c'è in Italia ma negli altri paesi non io per quello sono incazzato perché non ci si avvicinano minimamente cioè tu vai in Germania è bellissimo cioè è gente la verità è gente è molto più seria gli italiani prima che sono dei cazzoni però il tedesco non ne la fa è serio ma non ce la fa non ce la fa l'italiano è genio ok e quindi ma come l'italiano è genio ok sì è vero l'italiano è genio ma per tutta una serie di motivi culturali in particolare eccetera eccetera l'attività imprenditoriale in Italia non è vista come una vera e propria attività imprenditoriale quanto il semplicemente il mettersi in proprio per non lavorare per qualcun altro quindi nasce sull'antagonismo cioè io non voglio stare l'italiano direbbero sotto padrone e quindi mi metto per i fatti miei ma la mia ambizione non è creare qualcosa di grande è fare il mio lavoro ok farlo bene essere orgoglioso di essere un grande artigiano non grande una grande persona con le mani o non nel servizio di quello che faccio e basta e poi avere le mie cose mia famiglia nel tempo per me le mie cose quando mi sono comprato il mercedessino ho la seconda casa al mare l'italiano è a posto cioè per scherzare ma non è per scherzare cioè gli americani è uguale cioè gli Yankee mi affanno però è la più grande economia del mondo perché per un motivo molto semplice che quando l'italiano apre una pizzeria apre la pizzeria per mettere a lavorare la famiglia cioè c'è lui mette il figlio che gira i tavoli la moglie la mette in cucina trova un pizzaiolo che fa la pizza e lui è a posto l'attività è gestita minimo in bianco nero la parte che serve per sostenere la famiglia in modo da essere sempre sicuri che non fallisci mai perché se la prima cosa che fai col nero ti paghi tu comunque di fame non muori ok cerchi di tenere i conti dell'azienda più o meno a zero negli Stati Uniti non è così cioè negli Stati Uniti quando uno posto che anche nei posti rurali certamente quando uno apre una cosa c'è questa visione familiare però normalmente quello che noi intendiamo come Stati Uniti cioè la grande città eccetera eccetera le persone aprono come un sogno non aprono la pizzeria aprono la prima pizzeria col sogno di creare la catena immediatamente quindi l'azienda nasce in nuce pensando ai processi che servono per standardizzare il più velocemente possibile il replicare quella struttura noi in Italia non abbiamo processi quindi c'è l'imprenditore che fa il tutto e se lo togli dal punto vendita o dall'azienda non esiste niente da questo punto di vista quindi prima che i statunitensi cominciano a fare impresa per ottenere il massimo di quello che possono fare l'italiano invece semplicemente fa impresa per pagarsi per autopagarsi il posto di lavoro quindi l'American dream esiste ancora in realtà gli italiani non ce l'hanno perché c'è tutto e poi tu essendo imprenditore anche in determinati settori sei a contatto con determinati soggetti non è una critica sociale però è la verità in Italia esiste una cultura frontemente influenzata dal cattolicesimo in un'ottica punitiva il catto comunismo eccetera eccetera per il quale se sei ricco e se fai i soldi c'è qualcosa che non va quindi mentre negli Stati Uniti se cresci e diventi grande sei un figo in Italia se nasci nessuno e diventi qualcuno c'è qualcosa sotto e quindi tirano addosso dalla mattina alla sera quindi attiri occhi che non vorresti attirare diciamo mediamente questo è un po' il problema quindi i motivi sono economico socio culturali questo è un peccato perché perché noi abbiamo inventato tutto cioè nel senso il caffè espresso abbiamo inventato noi i soldi nel mondo li fa Starbucks la pizza l'abbiamo inventata noi ma noi abbiamo il napoletano o il casertano che se lo scopri o di perché oggi è diventato famoso con i soldi vai lì è la pizza migliore del mondo ma i soldi li fa Pizza Hut i soldi li fa Domino's nel mondo con una roba che chiamare pizza è anche un'offesa però è la verità cioè questi con le brutte copie di quello che noi sapremmo fare diventano degli imperi noi con il prodotto originale veramente straordinario siamo così refrattari al marketing cioè siamo così bravi a fare ma così cioè siamo dieci con le mani ma zero a comunicare che il risultato è cinque cinque mei cioè hai la sufficienza nello stare aperto ma non riesci mai a loro con un prodotto da cinque mezzo e il marketing da dieci creano un impero questo è non so se ho risposto a tutto quello che hai risposto l'altra domanda se vuoi era più dal tuo osservatorio a che punto siamo in Italia con questo diciamo ah sì scusa quello che è stato il tuo lavoro in questi dieci dodici anni di metodo merenda da vendedore vincente a metodo merenda quanto effettivamente le cose stanno cambiando allora quello che noi facciamo che è un'attività di divulgazione in realtà ha realmente presa su persone che sono già disposte e sarebbero state disposte probabilmente ad aprire la mente anche senza di noi cioè nel senso sono le persone che naturalmente hanno voglia di crescere di capire di sviluppare non è che tutti prima abbiamo fatto una generalizzazione è che tutti gli italiani sono così sono anche gli italiani che vogliono invece chiaramente crescere creare fare investire eccetera eccetera quelle persone sono il target naturale ovviamente di metodo merenda della nostra azienda ma nella media diciamo in Italia se dobbiamo parlare c'è stato un avanzamento come tu dicevi giustamente prima c'è stato giustamente un avanzamento tecnologico forzato cioè nel senso che oggi se non hai nemmeno una riga di presenza la tua attività su Google suona strano ma non è che lo fai perché tu sei attento al marketing perché una volta passava il rappresentante delle pagine gialle ti diceva le vendo il neretto e oggi passa lo stesso rappresentante di Italia Online o chi per loro eccetera eccetera le faccio la paginetta gliela indicizziamo e quelli più avanzati si fanno fare qualche campagnuccia no di generation su Facebook ma qui più che un orientamento spostato al marketing è diventato la naturale evoluzione di quello che la gente faceva prima che era iscriversi alle pagine gialle cioè ma non è che ci è diventato ancora non siamo al livello dove l'imprenditore ha capito il messaggio che devi essere cioè il prodotto si fa il problema vero è creare il marketing e quindi venderlo ancora non siamo a quel livello cioè lo siamo nel senso che ovviamente tutta quella fetta cioè nel senso per darti delle cifre così ci capiamo noi lavoriamo con una base stavo parlando quella dell'anno scorso quella di quest'anno è aumentata di molto ovviamente non ce l'ho aggiornata quindi non voglio dire scemenze una cosa per un'altra la base della nostra clientela l'ultima volta che ho guardato 12.000 clienti cioè persone che hanno nell'anno solare hanno comprato da noi qualunque cosa i corsi eccetera eccetera e se tu pensi 12 per noi sono a livello personale abbiamo creato un'azienda enorme noi stiamo bene non è quello il problema ma se tu pensi che le partite IVA sono 5 milioni 5 milioni 12.000 e noi siamo comunque muovono veramente i clienti gli altri stanno in piedi prendono le loro cosine e lo fanno per pagarsi il loro stile di vita noi siamo gli unici che fanno l'impresa sul serio e quindi se l'impresa numero uno della formazione viaggia su una base reale vera io non dico mai cifre a casa su mila clienti ti lascio immaginare che impatto possiamo avere quando le partite IVA poi adesso vera e finita facciamo la tara vuoto per pia diciamo che sono 5 milioni facciamo il solletico al pil reale chiaramente certo sì certo no però immagino che comunque diciamo questi 12.000 clienti poi hanno anche loro un prodotto di comunicazione anche culturale se vuoi quindi questo era un pochino il concetto che queste idee comunque si stanno diffondendo almeno questo era un pochino sì sì no si stanno assolutamente certamente si stanno diffondendo macchia d'olio è chiaro che non è che aumentando diciamo la comunicazione noi possiamo risolvere prima la base perché il problema è quello che noi spieghiamo nel marketing è che devi parlare alla gente che ti vuole ascoltare non è che devi convertire la gente che non vuole sentire e gli italiani sono ma il mio settore è differente ma nel mio caso il marketing non serve ma abbiamo sempre fatto così ma cos'è sta roba ma io non ho tempo ma io devo stare in cabina ma io devo stare cioè l'italiano è questo tra tutti questi uno uno per cento è quello che dice però interessante sarebbe anche capire come sviluppare l'attività e tra queste persone si sta diffondendo assolutamente a macchia d'olio sono quelli che non ne vogliono sapere che non ne vorranno sapere mai finché non verranno sostituiti dalle nuove generazioni quindi io ho detto quando è iniziato l'attività la gente pensava che io fossi tipo un infomarchettaro che voleva fare oggi il lavoro da qui eccetera non capiva io dicevo ragazzi voi non state capendo quello che io faccio cioè nel senso quello che stiamo facendo è creare un movimento culturale e i frutti però ho detto probabilmente non li vedrò nemmeno io cioè il metodo Merenda esisterà in Italia quando io sarò morto cioè le persone che avranno poi strutturato l'azienda cioè fra 50 anni quando io probabilmente mi tocco o comunque non sarò più capace di intendere di volere in Italia si sarà stato un passaggio di nuovi imprenditori che a forza di il metodo Merendiani che sostituiscono quelli alla vecchia maniera con le lance dai e dai e allora però è un progetto a 50 anni non è un progetto io sono diventato ricco non è mai stato la mia storia mi interessa mi interessa certo in qualche modo allora mi hai già implicitamente risposto a un'altra domanda che avevo era quella che di fatto non esiste in Italia sono il medico di avere una laurea oppure l'avvocato la laurea è scritto con ordine professionale ci sono quindi sono dei mestieri codificati strutturati come tantissimi mestieri anche un mestiere più semplice come so il contabile deve avere comunque almeno un diploma di ragioneria queste robe mentre l'imprenditore non c'è questo cioè non esiste una come dire minimo sindacale chiamiamolo così un minimo necessario una patente esatto per diventare imprenditore questo certamente è fondamentale ed è giusto che sia così perché ci deve essere un tema di libertà di iniziativa di attività eccetera però dall'altra parte c'è un tema poi di competenze che bisogna avere perché fare l'imprenditore comunque richiede di saper fare certe cose si richiede appunto di saper tra le altre cose oltre a saper fare quello che bisogna fare come produzione erogazione di servizi anche come dici tu giustamente saper leggere un bilancio poi saper fare del marketing diciamo avere un minimo di capacità di vendita cioè fare quel minimo che serve poi per farla vivere questa azienda allora se poi la domanda è un pochino ripeto quella di prima quindi magari cioè come si fa a superare questo problema qua cioè ovvero in che modo possiamo superare il problema di quelli che si mettono a fare imprenditori per finta perché non vogliono evidentemente lavorare per qualcun altro quello che dicevi tu prima tu sai che io sono un libertario in assoluto la nostra risposta filosofica è che se ne prenderà cura il mercato nel senso che se poi non sei in grado di competere perché non sei in grado di comunicare di fare marketing il mercato ti riassorbirà probabilmente e lascerà spazio a coloro che invece saranno più capaci da questo punto di vista quindi è una situazione l'imprenditoria è una situazione sempre fluida cioè nuovi imprenditori entrano sul mercato i vecchi vanno fuori la speranza è che continuando a fare in formazione e formazione le nuove leve prima di buttarsi a testa cioè quelli che sono fanno gli imprenditori non è che a me non è mai una critica uno che fa impresa da prima che io nascessi cioè nel senso è già bravo che fa quello che fa cioè non è che io ho inventato cioè senza di noi non si fa business ok no no ma chiaro per l'amor del cielo quindi grande rispetto per queste persone che senza saper fare marketing senza saper bene senza avere comunque hanno mantenuto famiglia hanno creato aziende anche importanti in alcuni casi eccetera eccetera il vero problema è che è riuscire secondo me la verità è convincere le persone che il mondo si muove in modo diverso e mi spiego nel senso che quello che noi facciamo è cercare sempre di essere molto coerenti chiaramente con quello che noi trasmettiamo nel senso che noi non per esempio sì noi siamo considerati una scuola di formazione ma in realtà siamo una scuola di formazione strana nel senso che noi non facciamo corsi come la gente in testa cioè uno è conosce una cosa l'ha studiata una cosa e ti insegna non è così tutti i corsi che noi abbiamo sono in realtà per quello che siamo lenti a lanciare i corsi nuovi rispetto agli altri perché perché quello che noi facciamo sono i nostri materiali interni che abbiamo creato abbiamo raffinato nel tempo per crescere i nostri junior e farli passare da junior a senior eccetera eccetera in varie parti che vengono poi erogati gratuitamente tra virgolette quindi noi divulghiamo la nostra ricerca e sviluppo su quello che facciamo quindi per noi anche crescere come struttura è un dovere morale nel senso che noi insegniamo alle persone devi delegare e devi fare questo e poi sono io lo scemo che dalla scrivania di oggi lavoro da qua mi insegno a fare imprese ma te non ce l'hai l'azienda di che cazzo fa cioè di cosa stiamo parlando se io devo essere coerente bisogna che io ogni anno prenda un piano in più della mia sede o prenda altre perché se no vuol dire che stiamo parlando di niente ma questo perché in realtà perché in particolare in Italia quello che noi vendiamo e lo dico proprio sinceramente è una cosa difficile da vendere cioè gli esperti di marketing e anche a me quando mi senti che ti spiego in realtà le cose ti rendi conto che ti dico di non fare quello che faccio io normalmente perché quello che facciamo noi non è consigliabile nel senso che noi spieghiamo alle persone gli vendiamo l'impegno gli vendiamo la difficoltà gli vendiamo che i risultati non diventi milionario dalla sera alla mattina gli insegniamo che devi togliere a te per investire per pagare stipendi devi togliere a te per investire nell'azienda e la maggior parte della gente anche nel mondo della formazione sono tutti si chiamano opportunity secret bizop non cercano questa cosa questo investimento quando io ti dico il mio piano ha 50 anni e lo vedranno la gente quando io sarò morto è la verità è la verità il problema è in realtà il contrario nel senso quando tu ci sono un sacco di persone che vedono l'opportunità nel diventare guru del marketing vogliono diventare il Frank Merenda piccoli nella loro situazione e ti raccontano che sono dei gran fighi dalla camera dell'albergo si mettono in qualche paese esotico ma quello manda non è un problema che a me da fastidio mandare dei messaggi stupidi che distraggono gli imprenditori gli imprenditori ma come io sono qua in officina a rompermi il culo da mattina alla sera e questo dice che fai milioni è brutto è sbagliato ma non può essere così perché tu che sei più ancora più internazionale di me quante forti un 500 conosci che sono fatte da 5 persone non esiste certo tu che più di me sei nel mondo degli incubatori delle start up del venture capital eccetera eccetera quando uno parte è chiaro che parte da solo il sogno americano tizio di google si presenta da solo ho capito però al giorno numero uno c'è questa differenza con l'Italia noi siamo più stitici dal punto di vista dei finanziamenti lo sappiamo però facciamo finta che ti diano i soldi ok quando gli Stati Uniti ti danno i soldi ti danno i soldi perché vogliono vedere che dalla mattina dopo tu hai assunto 500 persone non è che ti danno i soldi perché tutta la tua cameretta negli emirati devi fare il figo a stappare le champagne e prendere i jet privati ti danno due mazzate non hai capito cosa devi fare il piano è bello per fare sto piano solo per partire ok a fare il facebook di turno domani mattina con questi 100 milioni che abbiamo appoggiato sul piatto come primo round voglio vedere mille ingegneri assunti io non ho che è così esatto esattamente così ride off ma anche da una definizione fantastica di impresa di start up diciamo finanziata dal venture capital eccetera ti butti da un burrone con un progetto di aereo devi costruire l'aereo mentre caschi e cercare di ripartire e diventare poi insomma una volta che prendi il via vai su insomma questo assolutamente sì così come è assolutamente normale nel mondo start up che ci siano quelli che si chiamano i pivot che poi mi faceva pensare esattamente nella tua storia sono assolutamente assolutamente presenti tu parti facendo una cosa ma poi ti rendi conto che il mondo sta da un'altra parte vai da un'altra parte poi magari modifichi di nuovo la tua la tua la tua il tuo progetto ecco scusa per chiudere questo per dirti il problema in Italia qual è? è che a noi al di là delle situazioni che tu conosci però facciamo fin cioè le aziende italiane devono andare in autofinanziamento devono fare bootstrapping nel grosso quelle aziende che vanno in bootstrapping quindi il problema è convincere il piccolo imprenditore in realtà che per anni tu soldi dall'azienda ne puoi tirare perché per avere quei mille ingegneri quello che è tu per dieci anni quello che spiego io alle persone la gente mi odia perché guarda come ho fatto io cioè il Mercedes se non devi comprare cioè devi girare con la panda gas dieci anni perché ogni soldino va reinvestito in uno stipendio in più certo quindi facendo in bootstrapping tu devi avere una visione che se non è decennale minimo cioè quando io parlo di progetto a breve termine il progetto a breve termine la gente ah il progetto a breve termine è quest'anno no il progetto a breve termine è dieci anni per un'azienda se nasce da zero perché tu non ce li hai cento milioni per assumere i cinquecento ingegneri domani mattina e quindi quello che ho fatto cioè la mia azienda esiste oggi dopo dodici anni quello che è ok quest'anno festeggiamo i dieci anni ufficiali del primo corso per dire no dopo dieci anni tu vieni e c'è un'azienda ma è il progetto a breve termine che siamo arrivati siamo i più fin non siamo niente non è che muoviamo punti di pil noi siamo degli sfigati però se arrivi oggi la guardi cavolo c'è un'azienda quello che dice Frank è così ecco i dipendenti stanno qua stanno lavorando ma cosa faranno o sono dei cartonati o questi ragazzi lavorano il progetto minimo è un progetto a dieci anni dove tu esagero il concetto chiaramente però per capire non tocchi una lira perché perché ogni euro in più che in casa se vuoi crescere devi velocizzare gli inserimenti devi investire in asset devi investire in struttura cioè tutte le volte che piglio uno e piglia uno e pagagli lo stipendio e piglia gli il Mac è quello più costoso se no non riusciamo a rendere scherzo però la vita in azienda è così è così e quindi quando tu vendi alle persone ti insegno a diventare ricco facendo il drop shipping con i cinesi cioè che cosa sta queste cose che distraggono gli imprenditori no diventa ricco col bitcoin cazzo tu avevi 30.000 euro sul conto avevi fatto mosina mi ha messo da parte e con quelli lì devi assumere una persona non li devi mettere in bitcoin solo che con tutte queste influenze di predatori che cercano di prendere i soldini da queste persone il mio problema è la distrazione delle persone la distrazione cioè gli imprenditori il mondo della formazione moderno è un sacco di charlatani che distraggono le persone perché ci fosse la gente brava ragazzi il mondo è enorme di dove stiamo parlando anzi sarebbe straordinario com'è negli Stati Uniti qualcuno va da Jay qualcuno va da De non c'è problema il problema è quando c'è una scuola che cerca di portare un messaggio e poi intorno ci sono gli avvoltoi che cercano di strappare i pezzi di carne quindi quello rallenta il processo perché la gente dice ma come tu dici che per dieci anni io non devo godere quello mi dice che dopo domani ho gnocche e champagne come bilzeria vai là cosa devo dire ma io non ci riesco io non lo so fare magari lui è bravo davvero no però va bene senti adesso io non voglio se passate un'ora non voglio rubarti nemmeno tempo perché non so nemmeno quanto tempo tu abbia ma ho detto un'ora più o meno tranquillo ho mangiato prima quindi se vuoi andare anche un po' più d'accordo e allora altra altra allora ti faccio anche la penultima domanda se vuoi un pochino si aggancia a questo che hai appena detto perché la formazione business questo anche diciamo nel passato diciamo è sempre ha sempre il goduto di una non buona fama in Italia in particolare qual è il problema se c'è un problema evidentemente diciamo di fondo penso che la gente abbia ragione cioè nel senso contro i miei interessi non so che non faccio parte ma c'è certo io condivido al 200% e mi spiego anche qui bisogna fare un minimo di storia nel senso che quella che la formazione business una volta ok quindi andando indietro nel tempo in realtà quindi più che formazione business potremmo parlare di consulenza business erano era fatta da erano degli ex manager trombati da qualche azienda medio medio grande che ovviamente si mettevano in proprio e andavano a fare consulenza per le altre aziende le aziende più piccoline eccetera eccetera con tutta una serie di difficoltà perché perché se tu hai fatto l'amministrativo non l'amministratore l'amministrativo senior all'interno di un settore effettivamente se ti sposto all'altro cioè non funziona e poi se ti hai entrombato qualche motivo ci sarà cioè nel senso perché se no ti tenevano se sei ricapace ti tenevano lì quindi questa è un po' la verità e quindi sempre questo atteggiamento molto molto teorico molto da dipendente molto professorale che in alcuni casi da fastidio ed è vero anche quello in generale quello che poi a vari livelli si sviluppa nel corso degli anni nel senso che la tematica del marketing l'ho portata io prima non c'era gente che faceva il consulente diciamoci la verità c'erano le agenzie che ti vendevano le campagne se eri un'azienda disposta a spendere per fare le campagne la cartellonistica la televisione la radio ok poi oggi ci sono anche i consulenti di marketing ma il problema in tutti diciamo i reparti che sia di controllo di gestione che sia di direzione che sia di marketing è che sono tutte attività cioè la gente quando dice scherzando io quando ero ragazzino ci pensavo insomma la gente diceva cioè chi sa fare fa e chi non sa fare insegna però è vero cioè io capisco chi dice queste cose nel senso che se parli di impresa ecco cioè tu un'azienda dovresti averla cioè è brutto se tu un'azienda non ce l'hai non mi puoi parlare del come si gestisce il personale perché l'hai letto sui libri non può funzionare io non ho una multinazionale però oggi abbiamo 100 dipendenti e se considerano in realtà tutti gli stagionali che sono quelli che tu vedi e conosci che vengono con noi agli eventi diventerebbe molto di più ma facciamo finta che gente non ha bisogno di essere gestita quando tu cominci ad avere dipendenti a tre cifre in reparti differenti gestiti in maniera differente con manager differenti che li devono gestire beh magari qualcosa di serio da insegnare alle persone ce l'hai perché quando la gente ieri mi hanno fatto una domanda che tu stavi seguendo su Instagram hanno detto qual è uno dei libri migliori per imparare a gestire il personale io rispetto il Vangelo devi studiarlo perché se studi il Vangelo è per gestire perché nascondeva un inside joke molto particolare nel senso che non è che c'è cioè imparare a gestire le persone impari a gestirle se hai un'azienda e continui a inserirle sei tu che le inserisci sei tu che le selezioni poi nel tempo tu formi le persone con il tuo metodo per inserire formare sviluppare le persone e poi ogni tanto invochi il nostro signore perché è la verità come se ci siamo le persone invocando il nostro signore esortandolo a fare mail perché la realtà dell'imprenditore è quella così come per il marketing noi abbiamo un'azienda che ti dimostra poi tu insomma sei stato il primo editore per esempio in assoluto tu sai quanta carta quanto marketing noi c'è tutti i giorni io ho solo della roba che noi costantemente stampiamo mandiamo eccetera eccetera quindi tu sei coprotagonista di questo disastro e quindi noi lo facciamo noi tracciamo noi investiamo milioni tutti gli anni innanzitutto su di noi quindi quando qualcuno ci chiede potete seguire su una campagna noi sappiamo di cosa stiamo parlando non stiamo facendo cioè tu sei tre scemi dentro una stanza e faccio gli esperimenti e il mostro di Frank che sta in quei tuoi soldi su cose le quali io non ho non ho idea e quindi questo è un primo passaggio il secondo passaggio è che cosa è oggi tra virgolette il problema di che ti parlavo prima cioè il problema oggi di quella che è percepita come formazione business la maggior parte c'è una grande differenza tra noi e gli altri in generale non nel merito che non nella qualità ma proprio nell'onestà intellettuale nell'orientamento cioè noi siamo una scuola facciamo quello facciamo solo quello ok non c'è nient'altro non c'è nessun secondo fine e nessun agenda segreta normalmente quando vai io lo dicevo l'altro giorno il problema della formazione italiana anche business è che quando gli eventi hanno cominciato a diventare non eventi per insegnare ma delle televendite per portare le persone dentro il network marketing dentro investimenti esotici per venderti delle cripto di nascosto per portarti dentro il mondo degli NFT c'è tutte queste cose qua per raccogliere soldi investimenti quando la formazione è diventata un grande palcoscenico per fare una serie di televendite abbiamo avuto una serie di problemi tu vieni sai che c'è un corso impari quella cosa finisci lì al massimo ti vendiamo altri corsi perché come abbiamo detto ci sono ma l'università non è che c'è una materia più vuoi approfondire diciamo qua ne abbiamo quante ne vuoi ma non c'è nessuna agenda segreta e questo è un passaggio l'altro passaggio è che per fare quello che facciamo noi è un problema nel senso che l'azienda ce la devi avere davvero cioè nel senso perché devi saper fare le cose nel senso se tu vuoi insegnare solo il marketing e insegnarlo davvero e avere perché noi abbiamo due corsi a settimana sempre sold out ok devi lavorare tanto il marketing lo devi saper fare bene tanto è meglio di tutti gli altri quando tu non sai fare questa cosa quindi quando non sai veramente quello che insegni non sei in grado di creare un pubblico il tuo target business è quello del distrattore dell'opportunity seeker cioè a noi non vedrai mai fare quello che fanno tutti quelli che anche sono le nostre copie cinesi o che ci imitano cioè che cosa succede queste persone noi portiamo cultura laddove non c'è e trasformiamo delle persone che non ne vorrebbero niente in gente che ne vuole sapere qualcosa gli altri fanno una cosa molto semplice cercano cioè fanno quello che si dovrebbe fare correttamente nel marketing in realtà cioè che è cercare una nicchia affamata prendendo tante volte argomenti di cui noi parliamo magari non eroghiamo per esempio i servizi e vedi queste persone che cominciano a sfruttare la voglia delle persone di andare in una direzione quindi di avere la pillola magica e quindi vedi fuori questa gente che fa dalla mattina alla sera e il segreto per diventare milionario è fare il book funnel e il segreto per diventare milionario è il funnel dei milionari il segreto per diventare ricco è fare amazon dropshipping cioè ogni giorno cambiano cioè quindi prendendo perché non avendo una scuola vera per insegnare sempre la stessa cosa ogni tanto devi vendere una roba nuova al pubblico ok che sia però qual è il problema il problema è che se io ci ho messo sei anni prima di fare un corso di marketing perché ho voluto testare per sei anni le cose tu quando dici che insegnerai o erogherai alle persone la campagna di marketing gli porterai i clienti e poi sei uno scemo che va in giro cioè prima la gente fa così ma te lo svegli prima vende la roba e poi va in giro a cercare i tecnici che la eroghino e ovviamente non li trovi cioè se io ti faccio una campagna la campagna te la fa Moreno da me te lo fa il nostro io so che con la campagna funziona non vado in giro a cercare la gente oh ragazzi abbiamo venduto 40 erogazioni di campagna Google e Facebook e ora bisogna erogarle e chi cazzo non facciamo così noi certo quindi poi tiri le sole la gente si incazza fai chiudere gli account di Facebook fai chiudere gli account di Google o la gente ti dà 10.000 euro per fare il corso su quella cosa e quella roba è una roba insensata e tu devi rimanere a fare l'impresa certo quindi hanno ragione perché in realtà non ci succede quando io dico noi non abbiamo concorrenza è la realtà perché non esiste concorrenza non c'è una scuola di marketing a favore che facciamo noi c'è gente che cerca di mangiare facendo dei lanci tutte le volte diverse su delle cose particolari e cercando di monetizzare sulla fame delle persone quindi poi quello che tu lasci per strada sono le macerie ed è normale che sia così è normale che sia così noi macerie non ne lasciamo mai ne lasciamo mai perché non è che non sbagliamo mai niente ma quando sbagliamo l'azienda risponde sempre in solido cioè non c'è nessuno che va via scontento di qualcosa non abbiamo mai fatto chiudere un account facebook a nessuno non abbiamo mai fatto un corso truffa su amazon fda diventa milionario col drop shipping con le criptovalute il libro dei miliardari non abbiamo mai promesso la bacchetta magica che e la gente invece fa queste cose vede che io parlo di un argomento e lo inserisco all'interno di un concetto più ampio dice ma Frank non me lo fa allora io ti faccio il full funnel sul libro bravo coglione ma questo c'è una farmazione non ci serve niente cioè tutte le cose vanno contestualizzate perché sono truffi la gente e la truffi 1 la truffi 2 la truffi 3 nel tempo magari quindi la gente ha ragione ad avere problemi con la formazione business perché io ce li dico per primi in realtà ma semplicemente perché la gente è disonesta mentalmente non c'è un progetto serio a aiutare le persone c'è il progetto a pagarti la macchina a fare lo sborone a stare bene te e crearti quest'aura da brutta coppia cinese di Frank che comunque per quello che potevi farti nella vita è già tanto nel senso vabbè perché poi alla fine appunto c'è un concetto di fondo di truffare insomma di non erogare quello che prometti no perché scusa per farti capire perché io abbiamo l'azienda no che cresce anche questa automaticamente di marketing automation che è la sniff che tu conosci moreno siamo amici ok perché noi non facciamo con quell'azienda 300 milioni di euro come Italia Online per esempio Italia Online fa 300 milioni di euro perché noi non lo facciamo ma perché noi non prendiamo il lavoro perché sappiamo che per erogare perfettamente il lavoro abbiamo X numero di slot i nostri tecnici possono scrivere il copy per X numero di persone al mese le campagne possono essere guardate gestite per X numero di persone al mese e le competenze per creare questi professionisti che vanno creati da zero secondo me sono lunghe a me piacerebbe erogare per 100 milioni all'anno non lo facciamo perché non possiamo truffare tutta la gente che mi copia se potesse fregarne di più ne fregherebbe di più cioè quanti gliene ordino la regola di questa gente intorno è intanto prendiamo i soldi e poi vediamo da noi questa roba non esiste esatto anche a me piacerebbe fare 300 milioni non lo facciamo perché non perché non si riesce tutto lì per il momento almeno per il momento non lo facciamo io sappiamo che abbiamo nel senso che c'è bisogno di tempo per crescere in maniera opportuna nel momento in cui potrei farlo sicuramente lo farai questo se io potessi comprare delle professionalità da fuori lo comprerei ma noi le dobbiamo formare internamente perché se prendo un copy da fuori ok mi devo cecare gli occhi se prendo uno che fa le campagne Facebook da fuori che non l'ha formato Moreno facciamo prima fare a Rakiri che metterle in mano i soldi dei clienti perché viene fuori una roba che ti brucia l'acconto dopo due giorni e mezzo assolutamente poi questo discorso poi delle competenze che devono entrare in aziende in effetti sono poi quelli che sono degli assets soft invisibili ma assolutamente fondamentali per ogni azienda in realtà cioè quello che sa fare la cosa X o la cosa Y che magari poi non si riesce nemmeno a trasferire ad altri allora diventa un problema nel momento in cui la persona va via ma comunque se noi volessimo fare come fanno le nostre brutte copie noi faremmo per 10 di colpo cioè il fatturato di quest'anno avrebbe un 10 dietro un 10 dietro per 10 non lo facciamo perché siamo stupidamente onesti non perché ci facciano schifo i soldi certo certo assolutamente perfetto senti io ti farei un'ultima domanda perché insomma abbiamo parlato un sacco in realtà possiamo farci 10 magaro per questa roba che mi ha detto oggi insomma comunque no a parte di scherzi sicuramente verrà una cosa molto bella ehm appunto tu mi hai detto giustamente eh che non c'è nessuna agenda segreta voi di fatto fate quello che si vede no è assolutamente tutto trasparente alla luce del sole d'altra parte però questo che sta per arrivare è l'ultimo venditore vincente che tu farai venditore vincente che diciamo partiti in inizio dell'intervista e quindi non c'è un'agenda segreta ma magari c'è un programma futuro non ancora svelato che cosa riserva il futuro a Metodo Merenda e a Frank Merenda non so se ovviamente per quello che vuoi e puoi e puoi dire sì sì no ma in realtà non c'è niente di segreto ogni tanto facciamo qualche battuta ma c'è questa cosa dove io faccio l'ultimo venditore vincente ma è semplicemente una naturale evoluzione dell'azienda nel senso che già tutti i corsi sono stati delegati finiti eccetera eccetera semplicemente l'anno prossimo noi mettiamo rimettiamo ordine perché nel corso degli anni venditore vincente marketing merenda in realtà sono diventati ogni anno erano un corso monografico con un argomento specifico differente tenuto da me mantenevano il nome originale ma avevano il sottotitolo tra virgolette che parlava dell'argomento che avremmo trattato poi tu li hai fatti praticamente tutti lo spieghiamo per favore di pubblico diciamo bene questa cosa in realtà apporta una serie noi comevamo in termini didattici porta qualche problema in realtà perché poi ci deve essere un punto di inizio corretto è una scuola la gente deve avere un punto dal quale iniziare noi avevamo ovviato a questo problema regalando tra virgolette i manuali originali del venditore vincente originale quindi le basi di venditore vincente le basi di marketing regalandole alle persone problema va bene se io voglio fare i suoi non è un problema però noi ci siamo resi conto che poi la gente veniva in aula e non capiva che quella roba la doveva studiare davvero prima di venire in aula e quindi rimane un problema grosso nel senso che poi la gente viene in aula e diciamo delle cose troppo intelligenti troppo avanzate perché non hai parti dal capitolo 10 invece che partire dal capitolo 1 quindi la gente non obbedisce che all'inizio va un po' educata anche al formarsi eccetera eccetera allora in termini di ordine abbiamo deciso che venitore vincente marketing merenda tornano aggiornati tutti gli anni chiaramente rispetto all'evoluzione tecnologica del mercato è quello che c'è però diventano i corsi di base dai quali tu devi cominciare e poi c'è il piano di crescita che è delineato in maniera più semplice dato che non ha più cioè quelle cose che devono essere insieme non ha più senso cioè io non voglio diventare il vecchio ridicolo che ha 80 anni e sul palco ha blatte perché 50 anni fa quando io vendevo cioè è una roba ridicola ok oggi sono delle persone molto più capaci di me a vendere a gestire i venditori a gestire le trattative i clienti eccetera eccetera così come sono persone molto più capaci di me nell'operatività di base nel creare il marketing eccetera eccetera e quindi è giusto che loro cioè io ho creato un'azienda ed è giusto che le cose le spieghi chi le fa tutti i giorni io oggi faccio l'imprenditore non faccio più queste cose quindi è assurdo non voglio diventare una persona patetica dopo un po' anche perché in realtà per creare un'esperienza straordinaria per questi corsi abbiamo in realtà diciamo acquisito due aziende due nuovi consumenti che fanno parte in realtà da sempre nella nostra azienda in determinati modi quindi Marketing Merenda verrà aperto sempre da Laura Ries che è la figlia di Al che è venuto a mancare qualche settimana fa e perché il concetto è il posizionamento devi saperlo come prima cosa da zero prima sessione quando si parte la mattina c'è Laura e si parte da zero è il posizionamento e tutti si devono sciroppare tutti gli anni quella roba lì sempre dall'altra parte il venditore vincente abbiamo preso un'altra donna straordinaria che è Amanda Holmes che è la figlia di Chet Holmes che anche lui è defunto qualche anno fa è stato un mio insegnante però non l'ho mai citato in maniera così importante perché non ho mai avuto un rapporto da tutto raggio stretto come ho avuto con gli altri insegnanti che ho citato però anche lui è alla base in realtà delle ricerche che io ho fatto quindi il venditore vincente deve moltissimo a quello che è Ultimate Selling Machine di Chet Holmes in particolare per le strategie di marketing per venditori la strategia di top 100 eccetera eccetera quindi ci sarà Amanda che apre venditore vincente e poi ovviamente ci sarà tutto il resto dei relatori per sviluppare tutto il programma quindi ci saranno due eventi straordinarie dell'anno prossimo quello nel quale io mi dedicherò già per esempio l'anno prossimo farò un summit all'anno mi vuoi vedere un unico summit all'anno quello dell'anno prossimo si chiamerà cosa farebbe Frank ed è orientato agli imprenditori e non è nient'altro che la storia cioè la storia è in corso io ho messo giù come vedi che faccio normalmente in maniera specifica di da scalica come un piccolo imprenditore partendo da zero può arrivare ad avere un'azienda vera grande insomma non è che siamo Facebook ma nel nostro piccolo siamo l'azienda più grande del settore e quindi come strutturarsi come prendere le decisioni come decidere di investire come assumere su cosa investire su cosa fare prima su cosa fare dopo sono tutti è il famoso terzo passaggio la gente sono anni che mi chiede ma noi vorremmo sapere in realtà tu come cacchio ragioni quando fai impresa non vogliono più sapere come faccio marketing non vogliono più sapere lo sanno che non sono io al telefono e lo sanno che non sono io lì che faccio le campagne Facebook no? e quindi la gente al terzo livello che cosa mi sta chiedendo Frank è tutto bellissimo ma se devo ascoltare te vorrei sentire imprenditorialmente questa cosa e allora bene allora faremo un summit all'anno dove parlo di queste cose mentre continuiamo ovviamente a espandere l'azienda espandere tutti i reparti ok? e portare avanti il messaggio a più persone possibili perfetto quindi rientra proprio in questo schema vendita marketing azienda quindi passaggio passaggio in qualche modo è un'evoluzione azienda questo mi sembra importante insomma lo lo mettiamo in evidenza poi ovviamente ti facciamo vedere come viene fuori l'intervista proprio per dire che andiamo in quella direzione lì eh beh no scusa no stavo dicendo scusa io quando è iniziato no? c'erano i grandi storici formatori vendita come che comunque studi no? quando sei il ragazzo non so Tom Hopkins Zig Ziglar eccetera eccetera però questi erano bravissimi non è che sto criticando però a me facevano terrore nel senso che erano dei professional la speaker cioè gente che scriveva libri per poi vendere le le ospitate no? ai vari eventi alle varie aziende il loro modello di business era prendere 10.000 dollari tutte le volte che un'azienda li chiamava per andare a fare uno speech sul palco solo che come hanno vissuto poi queste persone sono arrivate a 80 anni che per pagare la bolletta successiva dovevano continuare ad andare sul palco ma quando è con tutto rispetto a quando è 80 85 anni e sei ancora lì no perché quando io vendevo le spazzo è una roba ridicola io non la faccio più quella roba non è che mi sono scordato però non la faccio più è giusto che la facciano i miei direttori vendite quelle cose lì cioè i responsabili del reparto quelli che gestiscono i team quelli che tutti cioè io ho un nostro un nostro tutor senior un venditore senior che fattura cioè se consideri sì no fattura fattura come 4-5 PMI messe assieme da solo spiegherà lui come si vende non devo spiegare io ok? cioè te che vedi con la PMI che fai 500.000 euro fai pippa e stai zitto ascolti non devo esserci io non devo questa persona che fa 3-4 volte quello che fa in un anno quindi certo chiaro senti perfetto hai se vuoi non lo so eh ti potrei fare una domanda ma lo so che che non è che non è una domanda giusta però te la faccio lo stesso un messaggio per chi vuol fare impresa una parola una battuta lascia perdere lascia perdere no no è un messaggio per chi vuol fare impresa è chiaro che non è che esiste la ricetta la formula magica però insomma se vogliamo diciamo concludere eh dando una eh il vero messaggio che noi cerchiamo di dare in realtà al di là dei messaggi autopromozionali studiate fate la formazione così noi guadagniamo no evitiamo tutte queste cose qua ok il messaggio è fate impresa ragazzi sì nel senso è fatela e non distraetevi e se è troppo bello non credeteci cioè fate impresa quindi per fare impresa significa fare impresa non vi distraete fare impresa significa fare impresa quindi significa vendere i tuoi prodotti in maniera di presemplificata di quello che ti rimane ok devi allargare l'impresa comprare più macchinari più strumenti e assumere più persone fine qualunque altra cosa che non sia comprare più macchinari e strumenti e assumere più persone non è fare imprese mai bitcoin mai dropship mai il bull funnel vendere assumere più persone farle stare meglio possibilmente quindi creare condizioni di lavoro sempre migliori e far crescere quella che è ovviamente la struttura aziendale se fate impresa o la fate così o non la faccio se fate impresa per voglio aumentare il mio stile di vita no il vostro stile di vita per anni non dovrebbe cambiare in realtà o se fate impresa e tutte le volte vi fate distrarre come le gazze ladre dal nuovo oggetto luminoso e ne affacciamo ogni centesimo è come un bambino cioè fare imprese fare imprese è come fare il figlio cioè per anni ti togli il pane di bocca perché prima mangia il tuo figlio e poi mangi tu normalmente non è che tu dici ah figlio di merda la pappina me la magno io se tu la fai così l'azienda come fanno tutti i microimprenditi perché soffrono di nanismo e perché l'azienda soffre nanismo perché il bambino perché non lo fa mangiare è chiaro e finisce là e finisce è un ragionamento rotondo non si sbagli un ragionamento rotondo direi che con questo è una perfetta una perfetta chiusura della cosa senti grazie Frank fermo dove credi di andare te ne stavi andando senza iscriverti al canale vero? vedi di non farmi arrabbiare iscriviti subito e attiva la campanellina non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo giusto? allora fai bravo iscriviti ora